Crassa ignoranza e misoginia. Il ginecologo radicale Silvio Viale ha commentato così le parole del leader della Lega Matteo Salvini sul tema dell'aborto. Il pronto soccorso non è la soluzione a stili di vita incivili. Ci sono donne che lo fanno sei volte, aveva affermato il leghista. Il medico ha spiegato. Solo il 2,3% delle donne fa tre o più interruzioni volontarie di gravidanza e di solito sono anche quelle che hanno fatto più figli, mentre i tre quarti sono alla loro prima. Ridicola la polemica contro le donne straniere. Se è vero che fanno il 30% delle interruzioni, di cui il 40% dei paesi dell'est, è altrettanto vero che il 22% dei nati ha almeno un genitore straniero. Condannare e punire le donne ed essere indulgenti con i maschi è tipico della misoginia. Quella misoginia ignorante che dieci anni fa faceva dire a Cota che la RU486, la pillola abortiva nota del relatore, sarebbe marcita negli armadi e che oggi spinge Salvini a prendersela con il 2% delle donne come male assoluto.